La pattumiera a pedale Flatback Plus è più di una pattumiera. Flatback Plus è salvaspazio e può essere appoggiata contro il muro o la parete del mobile della cucina. Il pedale è leggero e l'intelligente meccanismo permette di aprire il coperchio senza toccare la parete. Il coperchio si chiude lentamente e in silenzio. La grande apertura permette di gettare l'immondizia con facilità senza fuoriuscite. Quando il coperchio viene aperto manualmente rimane in questa posizione per permettere di svuotare la pattumiera con facilità. Il secchio interno può essere sollevato per sostituire con facilità il sacchetto in una posizione più comoda. I sacchetti Perfect Fit di Brabanzia hanno un codice a colori. Controlla il codice a colori all'interno della pattumiera Brabanzia per verificare che la misura sia corretta. Per questa pattumiera utilizzare i sacchetti Perfect Fit di Brabanzia della misura O con il pratico nastro di chiusura. I sacchetti possono essere facilmente fissati in modo invisibile e le maniglie rimangono accessibili. Queste maniglie possono essere utilizzate anche per aiutarti a pulire il secchio interno rimovibile in plastica. La pattumiera può essere facilmente spostata grazie alla morbida maniglia in tessuto che non occupa spazio. La base in plastica protegge il pavimento da eventuali danni. La pattumiera Flatback Plus ha una grande capacità di 30 litri. È larga 37 cm, profonda 32 cm e alta 66 cm quando è chiusa. Quando è aperta è alta 88 cm. La pattumiera Flatback Plus è disponibile in vari colori e dimensioni. È progettata per essere usata tutti i giorni ed è coperta da garanzia e assistenza Brabanzia per 10 anni.